Io ieri ho visto una persona in uno stato, diciamo, autodistruttivo e sinceramente ho provato profonda tristezza per lui, parlando di Blur, ovviamente. Cioè, quando ho visto veramente questo spettacolo indegno, ovviamente ho dovuto rispondere, esattamente per tutti i motivi che ho elencato fino adesso, perché non esiste alcun tipo di sudditanza e non si può mantenere un regno del terrore o un regno di convenienza, perché queste sono le due fazioni purtroppo, no? E quindi ovviamente ho risposto, ma non abbassandomi i suoi codici. Hai detto, bene, lui fa esattamente quello che fa il maiale, cioè ti porta nella fanghiglia, ma io non vado nella sua fanghiglia. Cioè, io non mi permetto di utilizzare la sua compagna o i suoi affetti per attaccarlo, con la scusa dell'ironia. Quindi, semplicemente, provo tristezza per una persona che si comporta veramente in modo imbarazzante, cioè, sembra una persona che non sta accettando il passare degli anni, ma che rimane un bambino, fondamentalmente, perché tu hai descritto delle dinamiche veramente da liceo. Il fatto che uno si ubriachi in quel modo e vada al lavoro, fondamentalmente, e veramente trovi qualsiasi modo per dire a se stesso, sono migliore degli altri, ma so di non esserlo, in realtà. Per questo che io, nella clip di Dario, dico hai un palese complesso di inferiorità che non riesci a non tirare fuori ogni volta che mi menzioni. Anche perché ti stava palesemente sfogando le sue frustrazioni. Quindi io ho provato semplicemente tristezza per lui. È per questo che, purtroppo, ho ritenuto superfluo aggiungere altro rispetto a, ovviamente, quella cosa che ho detto da Dario, perché non è che uno poi può fa pippa e lasciargliele passare, anche perché secondo me poi, anche per il suo bene, magari non se ne renderebbe neanche conto. Tant'è, ripeto, a conferma di tutto, a riprova di ciò, ha messo come non in elenco la live, mi ha chiesto scusa. Ha chiesto scusa a me, ma soprattutto ad Alex, ovviamente. Quindi anche i fan che sicuramente lo difenderanno sotto questa clip, già ho visto il porcilaio su TikTok, dove ovviamente le grandi argomentazioni di questa marmaglia sono il cerbero è un tumore... Ma c'è tipo un adulto, comunque anche giovane adulto, mi immagino tutti proprio ragazzini, capito? Ma lo spero, perché sarebbe grave il contrario. Ma certo. Sarebbe grave il contrario. Ma solo un ragazzino può scusare un altro ragazzino, perché non comprende nel mondo degli adulti il giusto e lo sbagliato. Ma la cosa che a me fa... È ancora confuso il ragazzino. La cosa che a me fa tristezza è che purtroppo questo ragazzino non si rende conto che sta creando una statua di un idolo che ha più problemi di lui. Come tutti noi, eh. Cioè, essendo dei giovani adulti, cominciamo ad affrontare, insomma, delle sfide impegnative, no? Sui 30 o oltre i 30. E ovviamente Blur fa parte di questa cerchia. Il ragazzino invece lo vede come veramente quello che non ha peli sulla lingua, che non si fa problemi a dire che la compagna di quello streamer famoso è una p***a che va nel bidone dell'immondizia. Ma purtroppo... Non è una persona che sta bene con se stessa se si comporta in questo modo, no? Secondo me sì, poi in generale... Vabbè, il discorso fan e persona che viene appunto seguita. Spesso e volentieri uno diventa fan di qualcosa, spesso quando uno ha un pubblico anche di adolescenti. L'avevo già detta questa cosa. Cioè, Blur rappresenta la versione potenziata del ragazzino. Sì, certo. Quindi loro vedono in lui la loro stessi versione gold, versione apoteosi. E quindi questa cosa funziona finché riesce a far identificare le persone con te. Quindi basta. Anche perché tanto... Cioè, lui, come hai detto giustamente, sa benissimo che non può competere nel mondo degli adulti. E non vi siete chiesti, ragazzi, il motivo per cui non ha mai scelto di confrontarsi con me? Con noi in generale, ma parlo di me perché adesso mi ha messo in mezzo. Non ve lo siete mai chiesto? Veramente pensate che sia per non dare hype? Veramente pensate che sia questo? No, ormai collaborano tutti tra tutti. Blur ha collaborato con chiunque su Twitch Italia. Chiunque. Persino Sdrumox, dopo aver preso per il culo il nostro Imday, aver preso per il culo lui e aver difeso l'attacco brutale del Fazzone nei confronti di Sdrumox. Fazzone, King assoluto tra l'altro, ma in quell'occasione fece una roba sgradevolissima. E però è andato a collaborarci adesso. Cioè, non è un caso. Capite che non è un caso. Per me ha molto senso non collaborare, non magari fare chiacchierate, non fare cose in generale. Cioè, è preferibile di no con persone che hanno un personaggio sempre. Quindi persone che stanno sempre nella pantomima. Lui è un caso un po' fluido da questo punto di vista. Però se ci fosse un tizio che è personaggio sempre, o lo intervistiamo facendo anche noi finta, quindi assecondando, ma non è che possiamo parlare veramente a un personaggio. La cosa che avverto con Blur è che a volte è personaggio, a volte no, e lo usa a suo piacimento, ma non so se andrei a parlare con lui veramente. Capito? Sì, sì. No, ma io ti dicevo, ovviamente dal punto di vista del non mettersi mai realmente in competizione, ma giocare su un campo da gioco che scegli tu, con le regole che scegli tu, che valgono per te, ma non valgono per la squadra rivale. La scorrettezza è questa. Certo. È come a D&D, ci sta tipo un incantesimo che ti fa diventare trasparente, che non ti attaccano, no? E Marco, non lo so se lo conoscete. Vabbè, è un esempio. Mio ci penso un attimo. Perché, insomma, è come se lui dice sta cosa su Alex Mucci o su qualsiasi... Intermittenza. Eh? C'è intermittenza... Scusa, ma va a cavolo. C'è intermittenza che ogni turno stai qui, poi il turno dopo stai a metà fra qui e un altro piano. Ecco, esatto. Sei intangibile. Sì, che va in intermittenza nel piano astrale. Bravo. È esattamente questo. Cioè, io dico, devo dire uno sfonnone, dico, i peggio cose su Marco Chitano, poi entro nel piano astrale dicendo, ma è una gag. A me stavo scherzando, io sto interpretando un personaggio, Marco, ma veramente stai proprio indietro, eh? Grazie a te. È facilissimo. Ti in su, sei una merda, va a fare quello. Sto scherzando, è il personaggio piano astrale. Lui fa questo e tanti come lui fanno questo. Sì, ma infatti, a riprova di ciò, vi ricordate quando in una live, se non sbaglio, disse, ah sì, vorrei che entrasse Mara su Discord per chiarire questa roba qui? Era una vicenda relativa a GTRP, se non sbaglio. E poi ovviamente ci ha tenuto a precisare almeno sette volte, no, 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 ma stavo scherzando, ma ci mancherebbe altro, eh? Ma vi pare che lo faccio entrare? Ma vi pare? Cioè, il fatto che debba giustificarsi così tanto su un qualcuno che prendi in considerazione, perché poi ovviamente la gente che non riesce a seguire un discorso, cosa che a lui torna ovviamente molto utile, dato che sono incomprensibili i suoi discorsi, cioè non c'è un inizio, non c'è una fine. E anche in questa chat purtroppo alcuni non capiscono nulla e hanno scritto, ma perché dovrebbe confrontarsi con voi? Ma io ti faccio questa domanda, tesoro. Perché allora costantemente senti il bisogno di metterti in competizione o di prendere per il culo una fanbase o uno streamer e poi decidi però che è indegno della tua presenza? Perché? Che senso ha? E tra l'altro l'abbiamo anche chiesto, eh? Più volte. Quindi non è che uno dice, ah beh, non ci ho mai pensato, non c'è mai stato un contatto. No, 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 il contatto quando vuole ce l'hai come, tant'è che l'ha fatto stamattina. Quindi, ragazzi, io lo dico veramente anche per voi adesso, passi Gianmarco che è una persona, ok, con le sue problematiche come le abbiamo tutti, però tutti quelli che lo seguono in maniera veramente così totalmente priva di qualsiasi giudizio critico siete veramente inguagliati, ve lo dico francamente, perché è un problema poi che vi darà filo da torcere nella vita se utilizzerete questo metro di giudizio assente su determinate valutazioni. Questo penso. Ed è anche il motivo per cui non mi andava di parlarne perché tanto so che è completamente inutile perché ovviamente lui non mi ascolta e io non ho interesse nel farmi ascoltare perché non sono un suo amico non sono il suo psicologo non sono un suo genitore la sua fanbase non ha interesse ad ascoltarmi e non ha interesse a capire le criticità di tale comportamento quindi ripeto ne abbiamo parlato già avevamo fatto una live su questi comportamenti indegni e possiamo semplicemente ribadire delle cose ai nostri ma i nostri hanno già un giudizio critico tale da poter giudicare da soli queste clip cioè sono auto evidenti una persona adulta matura vedendo una roba del genere uno spettacolo ripugnante non ha bisogno del timbro di conferma del cerbero già lo sa che è una roba squallida e schifosa e che non dovrebbe comportarsi così nella vita ma il suo pubblico lo imparerà evidentemente a sue spese e secondo me Blur già sta imparando molte cose a sue spese ma cazzi suoi non miei io sto a posto con me stesso so che non mi comporterei neppure tra 50 anni in questo modo viscido nonostante ogni giorno io ricevo questo tipo di trattamento ogni giorno costantemente sempre attacchi sul fisico attacchi sulla mia compagna attacchi sulla mia posizione in determinati lavori attacchi di questo tipo sempre su mia figlia qualsiasi cosa quindi procedete pure io penso che io penso che